Qui se ce l'hai il picciolino lì va la squama, qui se vuoi gratta e vincere, gratta e carota e vincere la saluta, si chiama Giuliana insalata fino a fino, è buonissima insalata, io era biondo, maniato carota e biancato nero, si chiara anche zucchina se vuoi fare pasta, se vuoi fare insalata, se vuoi fare pizza Giuliana qui per fare zucchini, anche qui se vuoi fare zucchina per fare pastella, putti in pastella, qui se vuoi fare il ministerone tutta la tatina, zucchina, carota e patata, facciamo il ministerone, qui se non c'è cacchio da fare, metti dentro il shampoo e via, la bollicina, anche il bollicino, qui c'è tutte le spiegazioni in egiziano, si sono comunque in egiziano solo, si c'è anche telefono assistenza, chiamami, io mando la mia socia, e quell'altra per buca la patata è questo qui, guarda come si buca la patata, ecco qua, guarda il ferretto e metti dentro il manichetto, il ferretto e il manichetto stanno dentro il scatoletto, quando metti dentro la patata devi spinni, dentro la patata devi spinni, poi si è scordato, non mi ricordo più come si fa, devi spinni un po', giri i carri, fermi là, lì va il manico, lì va il ferro, non tirare di svidare la patata, non tirare di svidare la patata, qui due, patata per far fritta nell'olio, sennò fai la patata con il pollo al forno, ecco il pollo, ecco la patata, un po' nero perché è africano, questa è una polla milanesi, bella, una volta bucchi la patata metti carni, salsiccia ripiene, sennò fai la patata con il buco per dimagrire, no, stai bene, non devi dimagrire, no, no, va bene, sennò vuoi dimagrire, infili la carota, ti entra la patata, non sai come si infila la carota e ti entra la patata? Eh, va bene, ecco qua, così fammo le carote e patata con il pollo, quando metti il pollo al forno, guarda che carina, ecco qua, se metti al forno, col pollo al forno qua, se non mangi il pollo, c'hai il cane, fammo il cane con la patata, è buonissimo al forno, quando vuoi bucare zucchina, devi fare piano, perché la patata devi spinni sempre, le zucchine no, perché è morbida, però ti vengono sempre dritto, non c'è direzione evitata, non ti ferma nessuno, sempre dritto, e quando arrivi, fermi là, stiamo parlando della zucchina, non stiamo parlando della zucchina, li fa il manico, li fa il ferro e svidi la patata là, vedi? Hai capito? Qui metti le carni, sennò metti il vetro qua, il vetro là, vedi la stella, se vuoi fare pure i gnocchi, famo gli occhietti là, è che gli occhi.